Quest'anno abbiamo delle novità. Innanzitutto abbiamo aperto il numero che prima era chiuso in numerosi corsi di studio, agevolando quindi la possibilità da parte degli studenti di frequentare i nostri corsi. In secondo luogo abbiamo adottato delle strategie per venire incontro alle famiglie dal punto di vista economico, premiando innanzitutto il merito, come è nel DNA dell'Università di Messina da molti anni a questa parte, quindi esentando dalle tasse gli studenti che escono con 100 dalle scuole superiori. Inoltre agevoliamo le famiglie numerose che hanno più di un iscritto all'Università di Messina, diminuendo loro le tasse. Abbiamo aperto due nuovi corsi di studio, uno dedicato a coloro che vogliono lavorare nel campo degli allevamenti e un altro per coloro che vogliono fare gli infermieri specializzati. Abbiamo aperto un corso di laurea magistrale nel campo delle scienze infermieristiche. Inoltre abbiamo anche aperto una sede del nostro corso di studio in economia aziendale presso il comune di Reggio Calabria. Quindi gli studenti potranno dividersi tra la sede messinese e quella calabrese. Questo lo facciamo per venire incontro alla numerosa popolazione studentesca che frequenta tradizionalmente l'Università di Messina e proviene però dalla Calabria, a cui vogliamo andare incontro agevolando gli spostamenti che sono molto faticosi e difficili nell'area dello stretto.